Da il navigatore curioso. Il Deyavu è la connessione con gli universi paralleli, chi di noi non ha mai sperimentato, almeno una volta, il curioso fenomeno del Deyavu, quella strana sensazione di aver già vissuto una certa esperienza, senza ricordare il luogo e il tempo? Il termine Deyavu è francese letteralmente e significa già visto. Si tratta di un fenomeno piuttosto comune nell'esperienza sensoriale umana, ma ancora poco compreso. Può capitare di trovarsi in un posto assolutamente nuovo e avere l'impressione di esserci già stati prima. Cosa genera questa particolare condizione della nostra percezione? In passato, questa curiosa sensazione è stata attribuita a tutto, dai fenomeni paranormali ai disturbi neurologici. Negli ultimi anni, è cresciuto l'interesse degli scienziati per questo singolare fenomeno, facendo emergere una serie di teorie sull'origine del Deyavu e stabilendo che non si tratta semplicemente di un problema tecnico nel sistema mnemonico del nostro cervello, ma di qualcosa di più profondo. Gli psicologi hanno suggerito che il Deyavu potrebbe verificarsi quando gli aspetti emotivi e cognitivi di una certa situazione, sono simili a episodi già vissuti in precedenza. Tutte le informazioni accumulate nel corso della nostra esistenza, potrebbero generare quella particolare sensazione di familiarità tipica del Deyavu. C'è anche chi si è spinto in spiegazioni alternative molto più esotiche, come associare il Deyavu a certe capacità profetiche, oppure al ricordo di una vita precedente o alla chiaroveggenza. Qualunque sia la spiegazione, il Deyavu è certamente un fenomeno universale, che riguarda la condizione umana e, nonostante le numerose teorie, la sua causa della sua origine è ancora un mistero. Ma c'è un fisico teorico, il Dottor Mikio Kaku, conosciuto dalla maggior parte delle persone per la sua attività di divulgatore scientifico, e per le sue teorie, che certamente travalicano i confini delle fisica tradizionale, che ha proposto un'interessante connessione tra il fenomeno del Deyavu e l'esistenza degli universi paralleli. Il Dottor Kaku è impegnato da anni nello studio della teoria delle stringhe, secondo la quale il tessuto fondamentale dell'universo è costituito da oggetti ad una dimensione, simili a stringhe o membrane, in vibrazione e in base alla tensione e alla frequenza di vibrazione verrebbero prodotte e sostenute le particelle elementari. Una delle conseguenze matematiche dalla teoria delle stringhe è che l'il mondo, che conosciamo non è completo. Oltre le quattro dimensioni con cui abbiamo familiarità il tempo e lo spazio tridimensionale esisterebbero altre sei dimensioni spaziali extra, presenti in forme geometriche invisibili in ogni singolo punto nell'universo. Queste dimensioni extra potrebbero avere migliaia di forme possibili diverse, ognuna teoricamente corrispondenti ad un universo con le proprie leggi fisiche. Ciò che definiamo universi paralleli. Secondo il dottor Kaku, la fisica quantistica afferma che c'è la possibilità, che il diavù sia causato dalla nostra capacità di saltare da un universo all'altro. Per approfondire la sua teoria, Kaku cita il lavoro del professor Steve Weinberg, il famoso fisico teorico, vincitore del premio Nobel, che sostiene l'idea del multiuniverso. Secondo Weinberg, esiste un numero infinito di realtà parallele, che convivono con noi nella stessa stanza. E' un po' come le centinaia di onde radio differenti, che sono trasmesse intorno a noi, ogni giorno, da stazioni lontane. In ogni istante, il nostro ufficio, la nostra casa o le nostre auto sono avvolte da questo flusso ininterrotto di onde radio. Se abbiamo lo strumento giusto, una semplice radiolina, abbiamo la possibilità di ascoltare una sola frequenza alla volta, questo perché tutte le frequenze non sono in fase tra loro. Ogni stazione trasmette il proprio segnale a una frequenza diversa, con un'energia diversa. Il risultato è che la radiolina può captare una sola frequenza alla volta. Allo stesso modo, nel nostro universo noi siamo sintonizzati sulla frequenza, che corrisponde alla realtà fisica. Ma ci sono un numero infinito di realtà parallele, che esistono attorno a noi, trasmesse ad una frequenza differente dalla nostra e con le quali noi non possiamo sintonizzarci. Mentre la radiolina è sintonizzata per catturare una certa frequenza e quindi una sola stazione radio alla volta, il nostro universo è composto di stringhe, che vibrano ad una frequenza unica, che i nostri sensi riescono a percepire. Gli universi paralleli non sono in fase, cioè non vibrano alla stessa frequenza. Ma quando sono in fase è teoricamente possibile saltare da un universo a un altro. Quindi, anche se incerto, potrebbe essere possibile, che quando si verifica un déjà vu, o un universo parallelo è entrato in fase per una frazione di tempo, permettendoci di dare una sbirciatina, oppure il nostro ricevittore, per una ragione impossibile da determinare, si è sintonizzato alla giusta frequenza permettendoci di gettare uno sguardo in una realtà parallela. Forse le nostre esperienze di déjà vu sono una finestra aperta in un universo parallelo.